Ciao a tutti, sono qui con Donna Fleur per parlare di Drag Queen, dato che non ho avuto la possibilità, grazie mille. Dice che fortuna, pure. Ora non è vestita, infatti si stava preparando, stasera avrà una serata a drag e dovrà presentare, ballare, cantare. E chi più ne ha più ne metta. Noi ci rinventiamo, possiamo tutto fare. Se vuoi aggiusto pure i rubinetti a casa. Ottimo. Quindi avevo alcune domande da farle, così da poter capire meglio il mondo delle Drag Queen. Ricordo che le Drag Queen sono soltanto uomini che si identificano come uomini, che per spettacolo si fassano come donne, cantano, ballano. Solitamente fanno soltanto un lip sync, però alcune persone cantano anche. Una delle prime domande che volevo farti è come sei stata catapultata in questo mondo. Ma in realtà è andato tutto per gioco. Era una passione che avevo fin da sempre. Mi sono detta perché non lo facciamo? Quindi ho chiesto a un'altra drag se potevo farlo per una serata. E poi da là è andata avanti, avanti, avanti. Eccoci qua. E come hai costruito il tuo personaggio? È soltanto il primo? Hai altri modi? No, no, no. È solo questo. Anche perché io non è che mi limito a fare grandi serate. Più che altro sono qui in associazione, lo faccio un po' per volontariato. Ma in realtà il personaggio si ispira un po' a Donatella Versace. Cioè nel senso comunque è una persona che sembra molto rigida, molto austera così, però poi in realtà invece basta un cocktail e si diverte anche lei. Quindi poi è un po' mutato ovviamente nel tempo. Prima era più una baracconata, era più solo, diciamo, così un po' più frivolo. Invece adesso ci siamo un po' appagati e siamo diventati un po' più sterili. Però in realtà ovviamente il gioco c'è sempre. Anche il nome l'hai preso da là? Sì, in realtà all'inizio era Dona Flyer. Che non hai una sua stanza. Dona, sì, Flair, che si sta scrivendosi Flyer. Perché si ispirava appunto a Donatella Versace e Flair perché da piccola mi prendevano in giro perché ho due neghe, adesso non si vedono perché sono nascosti. E come la rivista Flair mi prendevano in giro per quella e quindi avevo creato questo nome. Poi mi hanno detto che sembrava un detersivo in realtà e quindi da là abbiamo cambiato, abbiamo aggiunto una N, è diventato donna, abbiamo cambiato Flair in Fleur. Fiore, che di fiore non c'è sta niente, in realtà è un po'... Però tutti i fiori crescono dall'età, quindi magari un giorno si boccerò anch'io. E senti la tua mascolinità un po' intaccata? Ma no, assolutamente, in senso la drag è un personaggio che performa su un palco, quindi crea intrattenimento, crea divertimento, crea gioco, risate, però poi in realtà la vita quotidiana è tutt'altro. Io sono così durante le serate, poi nella mia quotidianità sono io in quanto io. Non te lo hai preso in giro? Ma no, in realtà no, in senso non... È una forma di intrattenimento, io la vedo un po' come la danza, il canto, è una forma di spettacolo in realtà anche questa. Diverso ovviamente da queste, però anche questa è una forma di spettacolo, quindi non vedo motivo... Cosa ne pensi delle drag o il Pride? Sono positive, negative? Beh, io penso che il Pride debba rappresentare un po' tutta la nostra comunità, quindi in realtà nella nostra comunità ci sono anche le drag, sono... è nato da là il movimento poi, se ne vediamo un po' la storia, quindi in realtà è giusto che ci siano anche loro perché rappresentano una fetta della nostra comunità, come ci sono i gay, le lesbiche, i trans, le trans, i bisessuali o qualsiasi forma che deve essere rappresentata al Pride perché no, le drag anche... Anche la nuova pubblicità è stata molto controversa perché hanno messo all'interno delle drag queen, non so se l'hai vista... Di sfuggita, sì, di sfuggita, ma ci sono, fanno parte della nostra comunità perché far finta di no, è come se dovessimo dire sì, allora le lesbiche sì e gay no o sì, i bisessuali e non le trans, perché tutti devono essere rappresentati, anche le drag queen, poi alla fine quando andiamo in discoteca, quando andiamo a vedere una serata in realtà ci sono anche loro, quindi perché si fa finta di niente? Conosci qualche drag king? Devo dire la verità, no, zero. Questo mi dispiace, no, sicuramente ci saranno, non ne conosco nessuno personalmente, però mi dispiace perché in realtà anche quello è un qualcosa che fa parte del mondo dello spettacolo e quindi mi dispiace che in Italia sia, ma in realtà non è solo una questione di drag king, in Italia anche comunque il lavoro della drag queen non esiste all'estero, ma non bisogna andare tanto oltre, pensare all'America, anche nella stessa Europa, pensando alla Germania, all'Inghilterra e così via, comunque la drag queen non mestiere, ci sono dei locali appositi in cui si esibiscono tutte le sere, cosa che in realtà in Italia non esiste, perché levato le discoteche, comunque una volta a settimana non c'è come professione, quindi già è difficile vederne come se ne vedono all'estero, figura di drag king che ovviamente sono ancora più difficili da trovare. So che una drag queen famosa è stata usata per Ursula della Sirenetta. Ma in realtà è quella che ha ispirato, è una delle drag queen più famose al mondo, che si chiama Divine, e diciamo è stata usata proprio come simbolo, comunque come il suo personaggio ha dato ispirazione a Ursula della Sirenetta. Proprio questo fa vedere come in realtà anche loro hanno fatto la storia, perché non è una cosa recente, esistono da... ma basta pensare al teatro shakesperiano, così via che gli uomini che si travestivano per fare spettacolo, nasce anche da là in realtà, quindi non è una cosa così strana e astrusa. Ultima domanda, pensi che mai smetterai, ho intenzione di smettere? Ma io mi diverto una cifra in realtà, ma vedo l'ora adesso di andarmi a cambiare e salire sul palco, quindi penso di no, poi rattiamoci, facciamo le corone, finché non mi addobbo dai tacchi e mi rompo un ginocchio, almeno se non posso più salirci, continuerò penso. Ok, allora ti ringrazio per... Grazie a te per esserci stata in questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Baciami stellari! Ciao! Grazie a tutti.